Miei pro di camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini e oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza sul divieto di trekking dovuto alla peste suina. La PSA, cioè peste suina africana, è una malattia virale che colpisce i suini sia di allevamento che selvatici. Prende la denominazione di africana perché è stata rilevata per la prima volta nell'Africa subsahariana, però già dal 2007 numerosi altri casi sono stati rilevati in tanti altri paesi del mondo e questi casi hanno fatto un sacco di casino. Eh sì perché non ci bastava che ne so una pandemia pluriennale con un virus trasmissibile per via aerea, no, non era abbastanza. Questo virus porta i poveri maialini ad avere una serie di sintomi terribili tipo febbre, moraggia interna, debolezze e altri ancora più schifosi che, come direbbe il grande capitano Barbascura X, li fanno morire male. Sia chiaro questo non è un plagio nei confronti del capitano, no, questo è un omaggio e se non sapete chi sia il capitano Barbascura X, montanari che non siete altro, andatevelo a cercare immediatamente. In tutto questo bel quadretto c'è una nota positiva, cioè la PSA non fa assolutamente niente all'essere umano, almeno non direttamente, ma di questo ne parliamo dopo. Per non farci mancare nulla in questo quadretto romantico, questo virus ha una contagiosità elevatissima, quindi basta che un suino sano entri in contatto con uno contagioso e diventano entrambi positivi o se un suino entra in contatto anche con una carcassa di un animale morto per questo virus diventerà positivo, ma basta anche che un altro essere vivente, anche portatore sano della PSA entri in contatto con un suino per infettarlo. Tra gli esseri portatori sani potresti esserci proprio tu. Eh sì, perché basta che tu tocchi qualcosa di contaminato che il virus ti si attacca ai vestiti come, che ne so, l'odore dei panzerotti fritti e te lo porti girando finché non ti lavi nella candeggina. Cioè è proprio bastarda sta PSA, come l'odore di frittura. Però giustamente uno pensa, dice, ma non è che io da escursionista vado a pomiciare con i cinghiali e vado a strusciarmi sulle carcasse come un mare in mano. Cioè come cazzo faccio a diventare un vettore della peste suina facendo trekking? Purtroppo non è così semplice perché da escursionisti potremmo inadvertitamente schiacciare delle feci infette di animali positivi. Puoi venite ma di che porta fortuna. Oppure al nostro passaggio potremmo spaventare dei branchi di cinghiali infetti portandoli ad allontanarsi dalla zona e a creare altri casini altrove. Inoltre, per aggiungere altri tasselli al nostro puzzle, questo virus è altamente resistente. È certo. I suini che riescono a sopravvivere al virus rimangono comunque contagiosi per almeno un anno. Il virus non muore per congelamento ed è stato dimostrato che riesce a rimanere vitale all'interno dei salumi fino a 100 giorni. Non esiste una cura o un vaccino. Cioè bisogna farci una serie tv su sto virus, cioè tipo Highlander. Ne resterà soltanto uno. Maledetta peste suina, capitano Barbascura, dacci una mano, aiutaci. Ne stiamo parlando perché il 7 gennaio 2022 è stato trovato a una carcassa di un cinghiale infetto dalla PSA nel comune di Ovada in Piemonte in provincia di Alessandria. Questa scoperta ha portato alla delimitazione di una zona, tra virgolette, di protezione o infetta che comprende 78 comuni del Piemonte e 36 della Liguria. Trovate l'elenco in descrizione. Il 13 gennaio viene firmata dal Ministero della Salute e dal MIPAF questa ordinanza che vieta l'attività venatoria, la ricerca di funghi e tartufi, il trekking, la mountain bike è anche qualsiasi attività outdoor in questa zona per un periodo di 6 mesi. Vuol dire che tutte queste attività sono vietate fino al 13 luglio. Ad oggi, 28 gennaio, data di registrazione di questo video, il numero di carcasse infette trovate solo in Liguria salgono a 11. Cioè, fatemi capire, non possiamo stare in zone troppo affollate perché sennò ci becchiamo il covid e ammazziamo un sacco di gente. Non possiamo stare in zone poco affollate perché sennò potremo inventarci con la PSA e ammazzare un sacco di suini dicendo addio a Carbonar, Matriciana e Gricia. Cioè, ma che gioco è? Allora diteci dove volete che dobbiamo stare, facciamo prima. È consentito avere accesso ad aree verdi in queste zone, in centri urbani, in spiagge, moli, lungomare, ma anche su strade asfaltate che attraversano parchi e aree verdi o che servono per raggiungere proprietà private o attività. Bene, ma ora veniamo a noi perché, a parte gli scherzi, la situazione è davvero complessa. Questa peste suina potrebbe trasformarsi in una grandissima catastrofe economica, anche se in un certo qual modo già lo è. Non pensate soltanto ai cinghiali selvatici, ma pensate se questo virus dovesse raggiungere i grandi allevamenti di Piemonte ed Emilia-Romagna. E naturalmente un'epidemia fra i cinghiali porterebbe anche a un problema nell'ecosistema delle aree verdi e delle aree protette. Per intenderci, già oggi gli allevamenti presenti in queste zone sono soggetti a restrizioni e limitazioni, soprattutto nell'esportazione. Il quadro è questo. Da una parte ci sono gli allevatori, con tutti i settori derivanti, che è un comparto di Made in Italy che muove miliardi. Dall'altra invece abbiamo tutte le piccole attività della zona delimitata, quali rifugi, B&B, ristoranti o guide turistiche che naturalmente vivono di turismo e andare a vietare, come potete immaginare, tutte le attività outdoor in una zona dell'Appennino Ligure va a penalizzare in maniera incredibile tutte queste attività. Mettere in ginocchio un settore piuttosto che l'altro io credo che sia ugualmente ingiusto. Ve lo dico già, è inutile fare i campanilismi in questa situazione perché è un problema che potenzialmente potrebbe espandersi ad altre zone. Quindi non facciamo il ragionamento del tanto non mi riguarda, ma secondo me è arrivato il momento di farci qualche domanda. Ora che abbiamo una situazione abbastanza completa del quadro, beh, tocca a voi. Che cosa ne pensate? Cioè quali potrebbero essere secondo voi le soluzioni per affrontare questa emergenza? Io ci ho ragionato un po' e troverete la mia idea qui sotto nei commenti. Aspetto anche i vostri spunti e spero che si possa tornare presto a fare trekking sull'Appennino Ligure. Io personalmente ci sono stato per un trekking quest'estate proprio sull'Appennino Ligure, lungo la Via del Sale e ragazzi credo che sia davvero un peccato dover rinunciare a quei posti meravigliosi per tutta la primavera e buona parte dell'estate. Aspetto con ansia di leggere i vostri commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ricordate sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino. Ciao! Ciao!